buon salve siamo nella lms sharing platform la piattaforma di condivisione di lms è un sito che vi consiglio assolutamente di guardare oggi impareremo come scaricare un suono e inserirlo nel programma faremo molto velocemente quindi per esempio in questa sharing platform abbiamo varie categorie di cose da scaricare tra cui soprattutto preset cliccando su preset si aprono tutte le tipologie per esempio prendiamo non so un pizzicato questo è un preset potete ordinare per rating quindi potete prendere quelli che hanno più download o magari più punteggi migliori questo sembra molto techno e vabbè proviamo a scaricarlo ok quindi si apre la pagina qua c'è un'eventuale descrizione licenza creative commons ovviamente guardate che il tipo di licenza hanno potete fare download e lo scaricate una volta l'avete scaricato sarà da qualche parte nel vostro computer come si fa inserirlo nel lms tanto andiamo sull ms e andiamo in modifica impostazioni e clicchiamo nella cartellina qua per vedere i percorsi cartelle e la prima directory che viene visualizzata è la directory di lavoro lms vi copiate questo testo proprio con copy e andate sul vostro explorer resource lo incollate qui io ce l'ho già entrato o comunque ci andate manualmente e in questa cartella ci saranno tante piccole cartelle io ne ho molte di più di quelle che dovreste avere però sicuramente dovreste avere preset projects e se non ce l'avete create questa samples samples assolutamente necessaria comunque entriamo dentro preset visto che abbiamo scaricato un preset io in particolare ho anche fatto una cartellina scaricati vado dove avevo scaricato il plugin e lo inserisco qua dentro ok una volta è stato inserito non fate caso a queste icone queste sono per mega possiamo tornare dentro le ms non c'è bisogno di riavviare possiamo banalmente andare nella lista dei preset e premere questo pulsantino in basso che serve a ricaricare se non siete sicuri che l'ha fatto basta aprite qualche cosa e premete vi si chiuderà automaticamente e dentro scaricati spunterà questo strumento che io in questo momento tra parentesi non sento perché sono senza cuffie sentiamo questo strumento va bene insomma abbiamo scaricato uno strumento quindi questo è come abbiamo scaricato uno strumento da fuori dove possiamo trovare tante liste tante tante liste di questo tipo di strumenti dove possiamo condividerci le cose che troviamo bene ho pensato recentemente di aprire un piccolo luogo dove possiamo discutere scambiarci le cose da scaricare tutte chiaramente legalissime ed è discord ho creato un piccolo disco piccolo un piccolo discord sono già entrato una decina di persone che però sono online una volta mi porto di papa qualcuno viene online dovreste poterci entrare vi ho detto un link in descrizione me ne chiederete altri in futuro perché i link durano un giorno e questo discord è fatto di tanti canali se non avete disco non avete mai visto discord vi consiglio di scaricare un bellissimo programma in cui è possibile chattare e parlare ma anche fare streaming l'ho strutturato in modo diciamo abbastanza architettato la prima categoria dei canali è quella diciamo chiamata lms quella in cui si discuterà effettivamente di lms o comunque tutto ciò che è in topic quindi generale sull'ms poi consigli generali sulla produzione qua ci sono in realtà delle descrizioni discussioni sulla produzione e composizione di musica poi supporto tecnico per chi avesse bisogno di supporto brani lavorazione se volete pubblicare qualcosa meme ovviamente ci sono anche due canali voce con eventuale chat dopodiché c'è la sezione in cui posso pubblicare soltanto io dove ci metto gli annunci e ci metto soprattutto quale risorse reality free vi consiglio di venirla a guardare perché qua ci sono tutte le risorse diciamo che lms ufficialmente da così come ne potrò mettere delle altre che vengono da altre fonti vi consiglio di venirla a vedere e poi ho fatto una piccola sezione con le richieste video qui potete utilizzare questa manina o mettere qualche qualche altro emoji per indicare che vi piacerebbe moltissimo vedere un certo video qua ci sono le descrizioni dei video che potrei fare in questo momento sto facendo il video mi ricordavo di aver scritto il video sull'inserimento ah ecco scaricare campioni e preset breve tutela sull'ns sharing platform e su come inserire i suoni scaricati nel programma ok poi le regole del gruppo questa diciamo c'è una lettura non c'è niente di particolarmente brutto qua ci metto la musica che mi piace a me poi abbiamo un off topic in cui potete parlare di musica in cui potete parlare di altri programmi di musica potete parlare di videogiochi programmazione altro se serve qualsiasi altra cosa apriremo altri canali e poi c'è tutta una enorme sezione di musica fatta con lms vostra o che avete trovato in giro che potete pubblicare in questo canale in base al genere ecco c'è sia la edm quindi tutti sopra scritto le descrizioni house disco dance euro beat quello che volete bass music quindi drum and bass dubstep bass house hip hop trap rock blues e tutto il mondo discorrendo tra metal e non solo strumentale canzone leggero canzone jazz elettronica sperimentale videogiochi 8 bit avanguardia o altre cose se proprio trovate cose diciamo che non rientrano in queste categorie eventualmente al solito né prima delle altre e poi qua sotto ci sono anche eventuali cose che avete trovato nell'lsp o che comunque volete condividere con gli altri volete mantenerle qui le potete pubblicare qua eventualmente se le ritengo interessanti e sicuramente prive di licenze varie li andrò inserire nella mia lista qua tra le risorse loyalty free trovate infinite cose ci sono vst ci sono sound font ci sono campioni questo penso che sia tutto mi raccomando per quanto riguarda i campioni nella cartella che abbiamo visto poco fa dalle impostazioni bisogna creare questa sottocartella samples che non dovrebbe essere creata automaticamente quindi createla voi e qua dentro ci potete inserire quello che volete e questa è quella che spunterà poi sulle ms dentro i miei campioni esattamente la stessa cartella ovviamente qua ci sono in più i campioni che vengono con lms che sono in una cartella invece di sistema bene questo è tutto quello che voglio dire da dirvi per oggi vi saluto e vi aspetto dentro il discord e guardate in descrizione per un link